Allo sperimentale di Pesaro, gli stati generali di Midterm si sono conclusi con una bomba sganciata da Matteo Ricci su un vecchio progetto tanto visionario quanto reputato impraticabile. Almeno fino a sabato sera, ovvero l'arretramento della ferrovia dal mare trasformando la corsa dei binari dalla costa ad una direttrice parallela all'autostrada e, ipotesi altrettanto clamorosa, traslocando l'attuale stazione ferroviaria al confine fra Villa San Martino, Villa Fastigi e Strada dei Cacciatori, grosso modo ai margini degli interquartieri all'altezza del bar Pasticceria Cantuccio. Non una sparata, ma secondo Ricci un'ipotesi circostanziata su investimenti concreti quanto convinte sono le intenzioni del ministro dell'Infrastruttura Giovannini di mettere 5 miliardi di euro sul potenziamento della tratta ferroviaria Bologna-Bari. Un'ambizione che gode di un'attenzione particolare al progetto presentato da Pesaro, area geografica dove l'alta velocità si scontra con una serpentina dalla costa a Gradara che costringe ad un forte rallentamento. C'è questa grande novità che nella legge di bilancio sono stati stanziati 5 miliardi per il potenziamento e la velocizzazione della Bologna-Bari. Noi abbiamo presentato ufficialmente il nostro progetto di fattibilità, di arretramento della ferrovia di Pesaro, progetto che abbiamo sviluppato con Ferrovie dello Stato e al quale abbiamo abbinato anche un progetto di trasformazione dall'attuale assetto della ferrovia in passante verde. Sembrava una butà, poi un sogno, ora ci sono 5 miliardi, dobbiamo essere bravi ad andare a prendere la nostra parte perché se riusciremo a prendere la parte che ci spetta dentro quei 5 miliardi potremo lasciare questo grande progetto fondamentale per la viabilità, per la mobilità, fondamentale per il trasporto merci che può cambiare la città, renderla sempre più verde, più sostenibile e più competitiva. Sarebbe davvero la ciliegina sulla torta di una marea di finanziamenti che abbiamo portato e che porteremo da lasciare a chi verrà dopo di noi ma che potrebbe davvero cambiare la città. Incrociamo le dita, però siamo ben posizionati perché ora ci sono le risorse e il nostro progetto è in cima alle priorità che il Ministero delle Infrastrutture sta visionando. Insomma, un progetto per una costa sgombra da minari con una stazione di Pesaro decentralizzata ma non troppo periferica e con un potenziamento commerciale per un carico di container merci oggi impraticabile negli spazi ridotti della stazione attuale realizzabile invece nella futura destinazione che darebbe un'importante alternativa al trasporto su gomma. Ricci lancia la sfida e trova già alleati nei più interessati al progetto Massimo Seri e Nicola Barbieri, sindaci di Fano e Mondolfo comuni coinvolti dalla tratta costiera e che entrano già nella partita.